Abbiamo avuto un sacco di occasioni oggi, è un momento in cui bisogna ricompattarsi e cercare di recuperare il più in fretta possibile perché lunedì abbiamo già un'altra partita fondamentale di campionato da vincere e oggi purtroppo non è successo più per le occasioni che abbiamo mancato, in cui dobbiamo far meglio piuttosto che per errori difensivi. Infatti penso che spesso è anche una questione di centimetri, non penso utile il pallo di Mancini poter arrivare alla partita stessa cosa questa sera, si poteva andare in vantaggio, a volte capitano questi periodi e bisogna lavorare un po' di più proprio su lavorare in questo tipo di aspetti. Sì, assolutamente, non bisogna smettere di avere entusiasmo, bisogna continuare sempre a lavorare forte cosa che facciamo sempre a Trigoria durante gli allenamenti per come si preparano le partite ma è giusto e normale pensare che bisogna fare qualcosa di più. Anche perché l'occasione c'è subito, questo è un periodo in cui si giocano tante partite, adesso si riprenderà subito in campionato è il momento migliore, ci sono tante partite e ci si può riprendere subito? Assolutamente sì, è importante giocare ogni tre giorni alle sue difficoltà perché purtroppo ci manca qualche giocatore che poteva alternarsi con tutti quanti ma come ho detto prima questo è il momento di combattarci, abbiamo fatto due sconfitte dobbiamo cercare di fare in modo che durante l'anno non succeda più e ripartire con la vittoria subito da lunedì.